Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro. 11 rate da 139 euro. E rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Parlare di Vakka è fondamentale adesso per il rap italiano. Sì perché Vakka porta avanti un po' l'elmetto. Vakka ha ancora la mano nella fondina. E forse diciamo l'ultimo dei gladiatori del rap italiano. Quelli veramente rap. Quelli che veramente portano un concetto di hip hop che è ancora fedele alla cultura. Questo non vuol dire che Vakka non si sia smarrito. Questo non vuol dire che Vakka insomma sia da prendere a esempio tutta questa roba. Non ho detto questo. Ho solo detto che Vakka è un pezzo di storia. E i ragazzi di oggi lo sanno ma non lo possono capire fino in fondo. Perché non l'hanno vissuto. Non hanno vissuto quando uscì con Day at Work e via dicendo. C'è anche da dire che Vakka negli anni facendo sempre tante uscite. Succede che poi non è che perdi di credibilità per la musica che fai. Però in un mondo che si basa sul mercato. Se tu lanci singoli su singoli. Ti fai un po' la nomea di quello che ci prova ci prova e non ce la fa. Quando per Vakka il discorso della musica è sempre stato molto ma molto importante. Da un punto di vista concettuale. Dal punto di vista della comunicazione del proprio concetto. E io sono contento che comunque ha fatto passare un po' di tempo ed è uscito con un nuovo disco. Perché ha avuto il tempo di elaborare se stesso e anche la musica. Perché insomma l'ultimo disco era un disco da battaglia. Poi ha fatto un EP molto sperimentale che non ha avuto molto successo. E invece adesso ci serviva un disco che rappresentasse Vakka. Perché Vakka non è solo rap underground. Non è solo la strofa rappata. Vakka è stato un innovatore. Vakka ha fatto la trap prima che questa esistesse. Vakka era uno che insomma prendeva il microfono, ti faceva delle melodie assurde. Era sperimentalissimo ma riusciva ad arrivare proprio perché il suo modo di sperimentale era molto musicale. E quindi comunque piaceva a tutti. Quindi cioè parliamo di uno che è stato in vetta di questo gioco per tanto tempo. E anche a livello di dissing non esisterà mai dissing più crudo e più seguito. E' più intenso di Vakka contro Fibra. Comunque Fibra è il padre del rap commerciale italiano. E Vakka era lì con lui. Se si sono separati è perché Vakka doveva andare per la sua strada. E anche il dissing è stata una cosa che non è che uno diceva lo faccio perché mi conviene. Tutt'altro. Oggi esce con questo disco in cui io vedo Vakka 360. Vedo un Vakka maturo, un Vakka che mette tutti i suoi aspetti. E in questo brano che, nel brano, nella title track in featuring con Leslie, adesso ne parlo subito. E' come se fosse un... E' come se lui si sedesse e dicesse a un figlio, a un nipote, a un fratello più piccolo come la storia. Chi è a 360 togliendosi tutti i filtri. Anche la famosa maschera da duro che il rapper deve indossare. Che Vakka fondamentalmente mantiene sia come personaggio ma perché ormai è lui, è la sua persona. E in questo brano lo vediamo messo a nudo. E quindi, secondo me, anche il featuring con Leslie è giusto. Leslie è, secondo me, la ragazza che rappa meglio in Italia. Ovviamente rappare oggi non è più di moda, quindi è difficile da lanciare ed è un prodotto ostico. Ma Leslie, che è delle mie zone, che io conosco personalmente, anche se non sento da anni, in quanto anni fa mi anche dissò. Mi dedicò una barra attaccandomi. Perché comunque avevamo delle discrepanze dal punto di vista sociale, nulla di personale. Facevo serate, spesso c'era anche lei, magari la chiamavo. E quindi anche questa cosa qui, che io ero quello che faceva alle serate e poi suonava nelle serate che faceva, non era ben vista ai tempi, ma non avevo altre possibilità. Però il vero problema nacque perché lei, insomma, io facevo dei video sul social in cui a volte avevo ragione, a volte deliravo completamente. C'avevo anche un sacco di problemi personali, psichiatrici e di droga. Però, insomma, me la prendevo un po' con quella che poi sarebbe stata la lobby LGBT in alcuni video. Lei non apprezzò affatto. E quindi ci fu questa sorta di... Poi ci fu uno degli scrazi, però, insomma, robe di tanti anni fa, robe da rapper. Ci siamo battuti, il suo dissing era molto bello. La rima che mi fece era molto carina, molto interessante. Peccato che non c'è più nel social, insomma. Però, a parte questo, lei era fortissima. Mi ricordo il primo mixtape. Cioè, secondo me, se Leslie si fosse fermata al primo mixtape, per quanto era potente, sarebbe rimasta proprio come leggenda urbana, diciamo. E invece no, ha continuato e ha fatto tanta musica anche di qualità. L'hanno provata a lanciare le major, ha provato a fare The Voice e via dicendo. Ma la verità è che Leslie, in una cosa, è più forte di tutte le altre e anche di tanti altri. Cioè nel rappare. E in questa canzone c'è... Io rivedo proprio... Mi sembra di tornare indietro negli anni e di sentirle, di sentire quella che era ai tempi una ragazzina su quel palco. Una ragazzina anche molto timida, nonostante lei sia molto estroversa poi sul palco. Comunque c'era quella timidezza che poi usciva fuori invece la potenza, no? E tu rimanevi impressionato, me la ricordo, a Tortoreto. Mi ricordo un live molto, molto, molto forte. Comunque questa coppiata, in questa traccia, che è appunto la title track e Vacca, insomma, aveva anche il bisogno di rilanciarsi da un punto di vista concettuale. E appunto li vede insieme non a caso. Perché Vacca e Leslie secondo me sono faccia della stessa medaglia. Con due storie completamente differenti, due generazioni differenti, ma uniti dal rap, quello vero, quello crudo. Quello che loro hanno fatto e che dimostrano ancora oggi di saper fare. Quello che oggi si dice sia di moda, ma in verità di moda non lo è mai stato davvero. Il rap, l'hip hop, forse le derivazioni. E la verità è che anche chi ha voluto fare il progressista, quello che sta avanti, quello che sperimenta come un vacca che sperimentando è stato veramente in vetta. Ecco, poi alla fine si torna lì. Perché da lì vieni e secondo me quello sei. Mi piacerebbe un mondo in cui si possa tornare a fare il rap, quello vero, quello old school. Un disco come quello che ha fatto Vacca adesso, che è molto bello. Per me dovrebbe essere nei primi posti della Fimi, al posto dei rappettari di oggi, che non sono rapper, che non sono rappettari. Secondo me dovrebbe esserci Vacca appunto. Però va bene anche così.